Quasi 417.000 euro per la manutenzione straordinaria dei giunti sulla strada regionale 429, variante di Certaldo. È quanto ha stanziato la regione toscana alla città metropolitana di Firenze. Nel dettaglio si tratta di giunti che interessano quattro viadotti, che ricadono sui territori comunali di Certaldo, Gambassi Terme e San Gimignano, quest'ultimo in provincia di Siena, per un tratto di strada di oltre 5 km tra i km 12,50 e 17,650. Strade, ponti e viadotti sicuri sono per noi un'assoluta priorità, ha spiegato il presidente della regione Eugenio Giani. In questo caso si tratta di una richiesta per lavori di sommorgenza da parte della città metropolitana. Interveniamo immediatamente sapendo che la città metropolitana, per gli interventi straordinari e non programmati, ha bisogno di risorse aggiuntive rispetto al budget che viene trasferito annualmente dalla regione. Per l'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti, Stefano Baccelli, abbiamo ritenuto necessario procedere ad assegnare le risorse aggiuntive richieste per non creare inconvenienti sulle azioni già programmate con i finanziamenti per province e città metropolitana. In questo modo manteniamo lo stesso livello di interventi e assicuriamo la tempestività del budget per questo lavoro di sicurezza sui giunti che è di somma urgenza.